Possiamo immaginare che i capelli delle modelle siano continuamente stressati per via di piastre, lacca durante i casting o i servizi fotografici. Figuriamoci quando si avvicinano le Fashion Week di New York, Parigi o Milano, dove vengono chiamati i migliori hairstylist da tutto il mondo. C'è però una modella che ha scogitato un modo tutto suo per proteggere i suoi capelli. Lei è Giuliana Schurig e ha rivelato a Vogue Australia di non farsi praticamente mai lo shampoo. Durante la Fashion Week dice cerco di bere tantissima acqua e utilizzo dei balsami che si possono lasciare sulla chioma senza doverli lavare. Noi sorvoliamo sul suo trucchetto un tantino poco igienico ma sospettiamo che non sia facilissimo starle vicino.